Tornano alla normalità, dopo i picchi e al ribasso della scorsa settimana, i livelli di inquinamento atmosferico a Civitavecchia. La fine delle correnti occidentali, che nel periodo dal 4 al 10 ottobre avevano praticamente azzerato la presenza degli agenti inquinanti controllati, ha riportato i valori nella media di questi anni, comunque tutti abbondantemente al di sotto dei limiti previsti dalla legge. Il report settimanale fornito dall'Agenzia regionale della protezione ambientale disegna quindi una situazione assolutamente tranquilla per quanto concerne l'inquinamento in città. Nello specifico, per quanto riguarda gli ossidi di azoto, la centralina di Villa Albani, che nella precedente osservazione aveva fatto registrare una media di 18 microgrammi al metro cubo, sale a quota 38. Al porto si è rimasti a 26 microgrammi, in via Morandi si è saliti da 17 a 29 e in via Roma da 32 a 53 microgrammi. Riscontri come sempre notevolmente al di sotto del livello di allarme che la legge è fissa a 200 microgrammi. Per quanto riguarda la media del PM10, ovvero delle polveri, è salita da 10 a 12 microgrammi al metro cubo al porto ed è rimasta a 14 microgrammi a Villa Albani. Vale la pena di ricordare che nel caso del PM10 la soglia di allarme scatta sopra i 50 microgrammi. Il leggera salita al monossido di carbonio che in città è passato da 0,5 a 0,6 microgrammi al metro cubo ed è salito da 0,8 a 0,9 nella centralina di Via Roma. Il monossido non è stato poi rilevato nella centralina di Fiumaretta dove il valore del benzene è salito da 0,2 a 0,3 microgrammi. Situazione ottimale nei diversi quartieri cittadini. Per quanto riguarda gli ossidi di azoto, il valore più basso è stato rilevato a Sant'Agostino con soli 3 microgrammi. Seguono Aurelia con 8, Faro e Campodelloro con 13, San Gordiano con 16 e Fiumaretta con 19. Per quanto concerne invece il PM10 si va dai 9 microgrammi misurati ad Aurelia, ai 10 di Sant'Agostino, agli 11 del Faro e di Campodelloro, ai 12 di San Gordiano e ai 14 di Fiumaretta.